Continua lo sforzo della compagnia Carabinieri di Fano durante gli ultimi giorni di queste festività finalizzato ad intensificare il contrasto di reati predatori allo spaccio e alle condotte di guida pericolose. Durante i controlli i carabinieri hanno arrestato due italiani di 36 e 25 anni in esecuzione di due diversi ordini di carcerazione pendenti a loro carico per i quali sono stati portati entrambi nella casa circondariale di Villa Fastigi. Il 36enne, originario del Foggiano, già agli arresti domiciliari per essere stato sorpreso con due chilogrammi di marijuana, ha più volte violato le prescrizioni legate alla misura, tanto da condurre l'autorità giudiziaria a revocargli il beneficio e a ripristinare la misura del carcere. Invece il 25enne, originario di Pesaro, si sono aperte le porte del carcere dovendo scontare un anno e sei mesi per i reati di resistenza pubblico ufficiale e danneggiamento commessi nel 2017. I militari inoltre hanno pattugliato le zone del Pincio e della Rocca Malatestiana di Fano. Durante i controlli, tre giovani tra i 17 e i 18 anni sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro per uso personale di stupefacenti. A Fossombrone invece sono stati arrestati due marocchini di 36 e 31 anni perché colpiti da provvedimenti di carcerazione per reati legati alla droga. Sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare. Anche a Coglie al Metauro è stato arrestato un uomo e subito condotto a Villa Fastigi. Si tratta di un macedone di 28 anni, destinatario di un ordine di carcerazione che si era reso irreperibile da diverso tempo. Dovrà scontare la pena di tre anni e sette mesi di reclusione e una multa di 14.200 euro, essendo stato coinvolto in un'importante indagine portata a termine dai militari fanesi nel 2017 che permise di sradicare una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. I carabinieri di Marotta hanno condotto in carcere un 26enne del posto per aver più volte violato le prescrizioni relative alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, a cui lo stesso era stato sottoposto a seguito dell'arresto avvenuto nel 2021 quando venne sorpreso a cedere cocaina nell'abitato di Marotta. Numerosi infine sono stati gli interventi eseguiti dai militari della compagnia di Fano in occasione delle serate organizzate nelle discoteche del territorio, in particolare durante la notte di Capodanno, dove grazie all'attività di vigilanza e controllo sono stati scongiurati episodi di violenza e vandalismo. I carabinieri fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nelle prossime festività.